. Joshua Zirkzee, centravanti del Bologna, è stato autore di una stagione davvero consistente sul piano delle prestazioni al servizio della truppa Felsinea, una pedina completa nello sviluppo del gioco di motta, ha saputo legare il gioco con sapienza, essere il punto di raccordo della manovra, ma non solo. Qualità e tecnica sopraffina al potere per l'olandese che non figura, un po' a sorpresa, nell'elenco dei convocati della nazionale olandese diramati ieri dal CT Ronald Koeman, deve solamente aumentare la consistenza in zona gol.Lui ha lavorato sempre con ottima serietà, 12 gol e 7 assist in 37 partite. Ma fermarsi ai numeri nudi e crudi sarebbe oltrimodo riduttivo. Così Zirkzee vuole continuare a lavorare nel segno del gol. Il Milan l'ha già messo nel mirino. E l'attaccante giusto? Chissà, nel frattempo le fantasie dei tifosi rossoneri viaggiano già sulle ali dell'entusiasmo. Lui e l'io, che coppia?